roger my friend radio uniform 7 november my call sign italy zulu for victor queen santiago thank you my friend thank you my friend my name alessandro good luck to you my friend bye bye 73 io sono un po basito dalla scelta di qrz.com va beh che è un sito privato è un'associazione privata gratuita il diritto può essere anche gratuito però trovarmi dei colleghi e radiamatori di una certa nazionalità tutti bannanti a prescindere tutti bloccati è una cosa scandalosa diciamo meglio è una cazzata perché per me i radiamatori russi sono miei amici a prescindere i radiamatori ucraini sono miei amici ed è una cosa veramente scandalosa senza parole 73 il mondo radio amatoriale altro ciao